Dai suoi fedelissimi era chiamato Vangelo. In carcere gli avevano affibbiato il soprannome o professore perché era l'unico che sapeva leggere e scrivere. Negli anni 80 la storia di Raffaele Cutolo si è intrecciata con Campobasso nel carcere di Via Cavour. In quegli anni avevano soggiornato nomi altisonanti della criminalità, da Renato Vallanzasca a Gianni Melluso, affiliati di clan, di mafia e di camorra. Il primo settembre dell'81 un detenuto, Franco Diana, fu ucciso con 33 coltellate. Secondo l'accusa il mandante dell'omicidio sarebbe stato Don Raffaele, fondatore della nuova camorra organizzata, prima struttura piramidale in Campania, al cui vertice c'era proprio il professore Di Ottaviano. A indicare Cutolo come regista del delitto nel penitenziario di Campobasso il superpentito Pasquale Barra, detto o animale, lo stesso che aveva accusato il presentatore Enzo Tortora di spacciare droga nel mondo dello spettacolo per conto della camorra. Questo l'articolo con cui la stampa, il 29 giugno dell'84, aveva trattato il processo in corso nel tribunale di Via Lelena, in prima pagina. L'allora procuratore Laviani aveva chiesto l'ergastolo per Cutolo e per gli altri esecutori materiali dell'assassinio quattro giorni dopo, ma a sorpresa i giurati della corte d'appello di Campobasso giudicarono insufficienti le prove raccolte contro il capo della NCO e il tribunale, allora con il vecchio rito, lo assolse. Uno dei primi processi mediatici, quello di Cutolo a Campobasso, seguito in diretta anche da Radio Radicale. Radio Radicale, quest'oggi vi presenterà un documento di eccezionale importanza. L'udienza di ieri a Campobasso, alla corte di Assise, al processo che vede come maggiore imputato Raffaele Cutolo, accusato dell'uccisione del camorrista Diana. Una figura enigmatica, quella di Cutolo, di cui perfino De Andrè parla nella famosa canzone Don Raffae cantata insieme a Roberto Murolo. Così aveva risposto da dietro le sbarre in tribunale di Viale Elena a un giornalista. Quando si arriva la soggenda della verità, vedete, ma non si può arrivare, sapete perché? Non ce la prendono mai. Con la gente che è il governo, questo è il scangherato Italia. Ce la prendo sempre con i piccoli. Era malato da tempo, ancora detenuto nel regime duro del 41 bis e morto a 79 anni, lasciando dietro di sé una lunga scia di sangue e centinaia di omicidi, uno dei quali, quello che si è consumato dietro le sbarre di Via Cavour a Campobasso, non ha ancora un colpevole certo. Grazie a tutti.